Sì, è un buon dia oggi. Siamo venuti qui per fare la partita, per giocarci la vittoria. Questo purtroppo non è avvenuto. Dovremmo imparare da questi errori, anche se sappiamo che sono rimaste poche partite. Già domenica sarà uno scontro diretto importantissimo. Sì, dobbiamo rialzarci subito, non pensare a questa sconfitta che sicuramente brucia. Dovevamo e potremmo fare molto di più. Adesso domenica diventa veramente uno sparticacque per vedere chi siamo. Chiaro, però dobbiamo cominciare a vincere più partite fuori casa e dobbiamo cominciare a farlo da domenica. Non ci saranno altri risultati, secondo me.